Ciao bimbi, come state? Mi mancate tantissimo e non vedo l'ora di tornare a fare musica con voi. Oggi leggeremo insieme la storia dei musicanti di Brema. Siete pronti a scoprirla insieme? Attenzione però, non leggeremo la versione tradizionale. I nostri personaggi, infatti, suoneranno proprio gli strumenti che avete costruito con il materiale riciclato. Pronti? Iniziamo a leggerla! C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai non era più capace di portare peso e si stancava facilmente. Per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo ad un angolo della stalla ad aspettare la morte. L'asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise di andarsene a Brema, dove sperava di poter vivere facendo il musicista. Si era incamminato da poco quando incontrò un cane, magro e ansante. Come mai hai il fiatone? gli chiese. Sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle, gli rispose il cane. Il mio padrone voleva uccidermi perché ora sono vecchio e non gli servo più. Purtroppo è vero, continuò, non sono più capace di rincorrere la selvaggina come una volta e sono così debole che non spavento più nessuno. Ma ora come farò a procurarmi da mangiare? Concluso e depresso. Tieni a Brema con me, suggerì l'asino. Leggi, faremo fortuna con la musica. Io suonerò gli shaker. E tu potresti suonare un ocean drum. Il cane accettò la proposta e si incamminò con il nuovo amico. Non avevano percorso molta strada che si imbatterono in un gatto che mi agolava disperato. Che cosa ti è successo per lamentarti in questa maniera? gli chiese l'asino. Sono vecchio e soffro di artrite. Per questo non sono più agile come una volta e devo stare al caldo. Ma vedendomi riposare vicino al caminetto, ieri il mio padrone si è infuriato. Mi ha accusato di essere un fannullone. Mi ha rimproverato di non sapere acciuffare nemmeno un topolino e mi ha cacciato di casa, senza pietà. Pensare che l'ho servito fedelmente per tutta una vita. Ora non so proprio dove andare. Non so proprio come sbarcare il lunario. Rispososi inghiacciando il gatto. Allora vieni a fare il musicista con noi a Brema. Potresti suonare i suonagli. Gli dissero insieme l'asino al cane. Il gatto non se lo fece ripetere due volte e pieno di speranza si unì a loro. Passando davanti a una fattoria, furono distretti da un gallo che schiamazzava rincorso da una massaia. Mi vuole tirare il collo! Vuole me perché non ha un tacchino da cucinare per il pranzo della domenica! Mi vuole tirare il collo! Urlava terrorizzato. I tre compari gli gridarono. Vieni con noi! Potresti cantare e suonare le maracas. Non ebbero il tempo di aggiungere altro che, appollaiato sulla schiena dell'asino, sentirono il gallo che li incitava. Corriamo, corriamo prima che il padrone mi acchiappi! Una corsa disperata fin nel folto bosco. Lì finalmente ripresero fiato. Ormai si era fatto buio e, si sa, di notte non è prudente viaggiare. Dovevano cercare qualcosa da mangiare e un bel posto per dormire, almeno per quella notte. Rifocillati e riposati, l'indomani sarebbero ripartiti per prima. Fu allora che sentirono dei rumori. Nascosti tra i cespugli, si guardarono intorno. Videro una casa. Ecco dove arrivavano, brusì o risate! Mmm, profumo d'arrosto! Erano così stanchi e affamati, cercando di non fare rumore, si avvicinarono alla casa e con caudela, sempre senza farsi scorgere, guardarono all'interno attraverso la finestra. Non potevano credere ai loro occhi! In mezzo alla stanza c'era un tavolo colmo di buone cose, un tacchino ripieno, mortadelle invitanti, formaggi di tutti i tipi, panni da ogni forma, torte stupende, frutta profumata. Potremmo chiedere ospitalità! Non ebbero il tempo di aggiungere altro, che i quattro amici videro avvicinarsi al tavolo tre ceffi paurosi. Dunque, quello era il covo dei briganti! Se quei tipacci li avessero visti, sarebbe stata la loro fine! Si sa che la fama guzza l'ingegno. Ma scossi tra i cespugli, studiarono un piano diabolico che avrebbe spaventato quei briganti, così da obbligarli a scappare dal loro covo e da lasciare tutto quel ben di Dio da mangiare a loro disposizione. Nel buio, nella tranquillità della notte, interrotti solo dalla luce che arridiava dall'interno della casa e dal vociare sguagliato dei briganti, si avvicinarono alla finestra. In silenzio perfetto, l'asino appoggiò le zampe sul davanzale. Il cane balzò sul dorso dell'asino. Il gatto si arrampicò fin sulla testa del cane e il gallo si appollagliò sulle spalle del gatto. Quindi, ad un cenno dell'asino, diedero inizio al loro primo concerto. E fu tutto un ragliare, abbagliare, miagolare, schiamazzare! Un inferno! Terrorizzati, i tre briganti cercarono la salvezza fuori dalla casa, ma all'uscita furono investiti da un essere che calciava, graffiava, mordeva, beccava. Un inferno! Scapparono per non tornare mai più in quel luogo maledetto. I quattro amici non ci pensarono due volte, si precipitarono all'interno della casa senza esitare, si sedettero intorno al tavolo e... Beh, credo siano ancora lì che mangiano e ridono, che ridono e mangiano. Lì era il paradiso. Allora, bambini, ti è piaciuta questa storia? Spero tanto di sì! E bravissimi! Ho sentito che sonnavate questi strumenti davvero in maniera eccezionale! Complimenti! Allora, vi saluto, bimbi, e a presto! Ciao! 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 Ciao!